Tutte le novità di Rainbow Bridge Rispetto ai corsi del passato, Rainbow Bridge presenta nuove ambientazioni, inizialmente all'interno della città, poi dal terzo livello i bambini si allontanano via via dalla città, andando ad esplorare altri ambienti fino al mare. Il mondo reale è il cuore di questo corso. Rainbow Bridge ha nuovi personaggi di fantasia, ma dal secondo livello entrano nella storia anche personaggi umani. La realtà è sempre protagonista. Rainbow Bridge offre tre tipi di video. Video di civiltà sulle stagioni, ogni due unità, per riflettere la stagionalità raccontata nel corso. Video delle storie, l'animazione della storia che si trova nelle lezioni 3 di ogni unità. Video su CLIL Un video per ogni lezione di CLIL nella relativa sezione in fondo al libro. Nuove lezioni sulla pronuncia dell'inglese Soundplay Rainbow Bridge ha un sillabo di fonologia più forte e visibile. Nuove lezioni Take Home English Belle lezioni con attività che creano un collegamento forte tra scuola e casa. Nuovi collegamenti molto stretti con il curriculum di storia nei livelli quarto e quinto. Ideali per progetti CLIL come richiesto dalle indicazioni nazionali. Nuova Bridge Unit e preparazione all'invalsi nel quinto livello. Per iniziare a prepararsi alla scuola secondaria di primo grado. Nuovo sillabo di sviluppo del pensiero critico, Critical Thinking, è ben individuabile grazie alle rubriche Think, in linea con le competenze europee. Nuovo sillabo sulla cittadinanza, con chiare indicazioni che richiamano l'attenzione sull'argomento. Forte attenzione alle disabilità Fern, uno dei personaggi di fantasia delle storie, è in carrozzina, ma riesce a fare sempre ciò che fanno gli altri. E quando non è sulla carrozzina, i suoi amici sono lì a sostenerla. Messaggio sui valori della solidarietà e dell'inclusione. Rainbow Bridge, scopri il mondo reale, colorato e inclusivo dell'inglese. Da quest'anno con il Rainbow World Handbook in omaggio a tutti i bambini. Grazie 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 a tutti i bambini.